E' sempre più caos e sicurezza in città. Tra scippi e atti vandalici, Battipaia non è più sicura, o comunque meno sicura di un tempo. Attorno alla stazione ferroviaria, ad esempio, è un far west. Le famiglie chiedono maggiori controlli e maggior presenza delle forze dell'ordine. La cronaca di questi giorni è palese. Due scippi, entrambi ai danni di donne, in meno di 24 ore. Nello specifico, una ragazza residente a Matera è stata rapinata mentre saliva su un treno per raggiungere Roma. Il malvivente l'ha strattonata e la ragazza è caduta, urtando la testa sulla banchina, rimanendo ferita, per fortuna non gravemente. E' solo uno degli ultimi episodi di criminalità e microcriminalità, verificatosi alla stazione di Battipaia. Il piazzare antistante è assediato da stranieri, che di giorno e di notte infastidiscono i passanti, chiedendo insistentemente denaro e molestando le donne. Stranieri, che molto spesso, litigano tra loro e il tutto sfocia in risse con lancio di oggetti e bottiglie di vetro, che rimangono poi in terra, andando a costituire un serio pericolo. Fenomeni di criminalità, questi, a cui si aggiungono anche altri episodi di vandalismi e i danni di auto parcheggiate. Una lunga serie di accadimenti che si registra quasi quotidianamente. Come se non bastasse, sono tanti i veicoli dati alle fiamme per le motivazioni più disparate. In alcuni casi, infatti, si è potuto accertare la natura dolosa dei roghi. Le grida di protesta sono tantissime e sono rivolte principalmente all'amministrazione guidata da Cecilia Francese, che sembra essere sorda a determinate richieste.